Con un canestro all'ultimo centesimo convalidato dall'arbitro di Ancelotti, Chieti batte Udine 70-69, Presidente. Emozione incredibile, è vero, all'ultimo secondo abbiamo vinto, non meritavamo di perdere una partita sempre condotta avanti. Contro una regia del campionato, così come abbiamo battuto la fortitudo, oggi siamo riusciti a battere Udine. Quindi adesso sarà sicuramente un futuro dove dovremo confrontarci con altre squadre molto importanti e cercare di fare più punti possibili in questa regola al season. Raiola, raccontiamo l'emozione di quell'ultimo secondo. Una grande vittoria, guarda, veramente perché secondo me, a parte i primi 6-7 minuti, siamo stati sempre avanti. E' bravo gentile ad andare su più, da un secondo dalla fine, sembravamo spacciati, ma bravissimi a eseguire la rimessa, la palla di tocco, l'Ancelotti. E' un buono stoppato a bellone, quindi ci gogliamo questa vittoria che l'abbiamo voluta alla grande e un'altra vittoria per continuare in questo ultimo trend positivo delle ultime 6, abbiamo vinto e 4. Racconti Andrea quel secondo finale? Beh, diciamo che ho cercato di fare un lay-up, fortunatamente è arrivato Pellegrino a cercare di stopparmi, io l'ho tirato verso il ferro e ha toccato prima la tabella, quindi è canestro buono. È andato bene perché chissà se andava dentro, chi può saperlo.